Ciao a tutti e benvenuti su questo nuovo video! Parliamo un po' di Maratona delle Dolomiti quest'anno 36esima edizione con le proposte di giro corto, medio e lungo gara incredibile da fortissime emozioni con panorami veramente da urlo percorso lungo sono quasi 140 km per oltre 4.000 metri di dislivello in sequenza con partenza dalla villa primo passaggio a Corvara Campolongo Pordoi Sella Gardena si scende a Fiamma tutto Fou a Colfosco e dopo il secondo passaggio a Corvara secondo passaggio sul Campolongo e poi invece di svoltare a destra si gira a sinistra per il lungo poi si va verso il Jau passando per il Colle Santa Lucia uno dei punti probabilmente più sottovalutati di tutta la gara ed è necessario stare in gruppo altrimenti si sprecano tante energie e il Jau ve le farà pagare dopo il Jau la bellissima salita del Falzarego l'ultima punta del Valparola e il grosso è fatto quali sono i pro della manifestazione? sicuramente l'organizzazione il fatto che chiudono completamente i passi non vi dovete preoccupare di traffico a parte le migliaia di bici i panorami meravigliosi se vi si spegne la luce basta voltare lo sguardo vedere le Dolomiti è qualcosa di incredibile il percorso non ho provato tante gare mi manca la Sportful mi manca Oztaler ce ne sono diverse ecco però devo dire che il percorso della maratona è molto bello quello attuale e la formula di adesso va avanti da anni e penso sia quella ideale tra i pro io metto anche il prezzo perché seppur molto alto comunque stiamo parlando di chiusura di passi un altissimo controllo una grande organizzazione tantissime persone che ci stanno dietro persone che vengono da tutte le parti del mondo non è banale soprattutto se pensiamo che ci sono delle manifestazioni degli eventi gravel ad esempio che non devi fare nulla di tutto ciò e danno un costo magari leggermente inferiore quindi tetto di cappello e se fanno il pieno tutti gli anni vuol dire che la formula è quella giusta questo è uno dei miei giri preferiti da fare la mattina presto durante l'estate quindi cosa mettere tra i contro? vi avevo detto prima che dopo il valparola più o meno le fatiche erano concluse ecco più o meno perché alla fine della fiera c'è il muro del giat il muro del gatto che è corto ma veramente tremendo soprattutto dopo tutto quel dislivello e quei chilometri spesso crampi darei forse la possibilità magari di di evitarlo ecco si è visto panorami incredibili conquistato vette altissime tra cui il giau quindi non occorre quello sforzo in più ecco l'altro contro che mi viene da dire è un po' sulle maglie soprattutto quest'anno ok che ci deve essere il tema ma le maglie femminili sono sempre più belle va bene e la maglia maschile di quest'anno nera sarà che gli anni passati hanno sempre avuto un po' di colore il nero grigio nero non mi convince poi ragazzi la green pocket ma voi avete capito che cos'è? ogni anno mettono questa green pocket sul lato sinistro della maglia servirà probabilmente per metterci le cartacce ce le hai tutte lì però non capisco bene il senso e la maglia sarebbe più bella mantenendo la stessa linea di colore queste sono alcune delle considerazioni ovviamente rimane una gara e un evento assolutamente approvato qualche giratina pre gara ma giusto per andare un po' a sciogliere la muscolatura e godervi assolutamente tutto l'evento che forse la cosa più bella è proprio l'atmosfera una festa della bici in cui tutti partecipano e sono tutti contenti di esserci altro consiglio è quello di idratarvi al meglio portare due borracce sicuramente io le uso da 750 ml e ve lo consiglio gel barrette banane fermatevi i ristori che è un'altra cosa che è necessaria magari non tutti individuate quelli che vi interessano di più sicuramente quello prima prima del jau e forse anche quello in cima al jau almeno così ho fatto negli scorsi anni e buona maratona a tutti come sempre iscrivetevi fate like commentate ci vediamo alla prossima ciao